Ok, sono le 5, ho 6 ore di tempo, devo studiare 3 pagine, il telefono non serve, devo essere concentrato domani in mello 8, concentrato atto latino latino dai 3, 2, 1 No, una mosca, mamma mia ma cosa... No, comunque abbiamo troppi compiti Un'ora che sto studiando e non riesce a entrarmi Porca di quella... Anima mia, torno a casa tua No, l'ho inviato Vos monio... ma cos'è? Clash of Clans Clash Royal Clash Royal Raga, qualcuno che ha fatto latino Ma ho nessuno che lo fa Scarico Se Sanlustio avanza noi non abbiamo timore Portiamo l'ignoranza dentro il nostro cuore Il latino paura non ci fa Hey! Il latino paura non ci fa Anche se di notte Cesare mi sogno Se le declinazioni noi non abbiamo bisogno I verbi deponenti non fregano a nessuno Le vostre perifrastiche ficcatevele in... Tu le pera con la papaya M Grazie a tutti per aver guardato il video.